Estroso, geniale, pittore prodigioso, l'essenza della belle époque, la mostra di Giovanni Boldini, ferrarese di nascita, parigino da adozione, è un evento imperdibile. Fino al 18 aprile il genio della linea, la magia, del colore presso la gil di Campobasso, è un evento imperdibile anche e soprattutto durante le festività natalizie grazie ad eventi complementari, 10 appuntamenti musicali con artisti della nostra terra. Dal 26 al 9 gennaio noi daremo gli auguri a tutti coloro che vorranno venire e che vorranno visitare questa splendida mostra attraverso 10 appuntamenti musicali che ci saranno il 26, 27, 28, 29, 30 e poi scavalcando l'anno il 2, il 5, il 6, l'8 e il 9 gennaio, degli appuntamenti che in qualche modo accompagneranno la visione di questi quadri meravigliosi di Giovanni Boldini e che saranno un'occasione anche in totale sicurezza di socializzazione per fare ascoltare degli eccellenti artisti della nostra terra. A questo poi si aggiunge un altro appuntamento di auguri il 1 gennaio al Teatro Savoia, Calossa Ensemble ha organizzato questo concerto di Capodanno che ritorna appunto al Teatro Savoia alle 18.30 il primo giorno del 2022. L'arte non ha età, con il giusto linguaggio se ne può parlare anche con i più piccoli. Il giorno della Befana è l'occasione giusta per un appuntamento riservato alle nuove generazioni. Il 6 gennaio, come è giusto che sia, l'attenzione è rivolta ai bambini. È rivolta però ai bambini in maniera un po' particolare, nel senso che potranno visitare la mostra e saranno guidati naturalmente attraverso un percorso che sarà tagliato sui più piccoli, perché si può parlare di arte, di bellezza, di cultura a tutte le età, trovando naturalmente i linguaggi adatti e adeguati, ma si riesce ad ottenere invece tanta attenzione e di interesse soprattutto dai più piccoli. E poi con piccoli naturalmente accorgimenti, divertimenti e giochi che animeranno ancora di più il clima complessivo del 6. Poi c'è il teatro, con una stagione programmata con un cliché diverso da quello abituale. L'apertura è da segnare sull'agenda degli appuntamenti. Il 20 gennaio a Campobasso, sul palco del Savoia, si esibirà Roberto Vecchioni. Quest'anno abbiamo fatto una scelta, anche considerando quello che è il clima e la situazione complessiva, di organizzare non tanto una stagione tradizionale, canonica, quindi anche con gli abbonamenti di sempre, quanto piuttosto di proporre una serie di appuntamenti a teatro, che partono da gennaio e ci accompagneranno fino a maggio. E partiamo il 20 gennaio con un appuntamento veramente straordinario, il concerto di Roberto Vecchioni. E per il momento annunciamo questo e annunciamo quello del 13 febbraio, che è il gran galà dell'operetta, perché sappiamo che il pubblico è molto legato, molto affezionato a questo genere. E poi ci sarà un po' per tutti i gusti, nel senso che ci sarà il balletto, ci sarà musica, ci sarà il teatro tradizionale e quindi la possibilità davvero di scegliere sempre in un contesto molto sicuro. Grazie a tutti.